è Gorini che prova con il destro a girare Benedettini riparare Missaia, alza lo sguardo, cerca la conclusione con il destro Benedettini in due tempi riesce a bloccare, bravo Claudio Missaia che dice anche Missaia, attenzione al sinistro di vent'anni dentro la palla che arriva a Pilleri Purchase your tracks today 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 direttamente in portacroce, Benedettini attenzione, dall'altra parte c'è Romano doppio intervento miracoloso di Elia Benedettini